Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, che è la nuova serie di Minecraft. Facciamo le cose normali, ovviamente tutti che fanno, allora, in realtà che voglio fare subito, faccio già la crafting, la crafting, la crafting, la piazza, per farmi già successo con l'alto e con l'alto. Allora, ragazzi, questo è il mio episodio, adesso vi faranno un massimo di un'episodio, e oggi vi farò 3 video ogni giorno, un forza raga ogni video, ogni giorno, allora, adesso cosa devo fare? Allora, ragazzi, stivate che già Newton non dimentico, ragazzi, perché, ragazzi, comincio a stivate un attimo. Allora, andiamo a legno, già inizio, allora, faccio il legno, adesso lo vado a trattare. Mi c'è un lama, che è bello, però la devo lasciare libero, perché, allora, facciamo un'episodio, con la spada, il piccone e l'asca. E gli altri oggetti non sono, perché tanto sono inutili. La zappa, la bala, a volte, mi c'è un'episodio. Poi, la zappa, mi c'è un'episodio, alcune volte, perché, non vado a fare, non vado a fare. Allora, io direi di costruire una casa, e prendere il legno, e prendere il legno, da un'altra parte. Allora, facciamo intanto costruire il legno, e facciamo il legno, prendere il legno. Allora, andiamo. Raga, ma che, ragazzi, ma è normale? Ragazzi, 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 cosa è lì? Qui, sì, cosa c'entrano questi palestoni? Allora, nome Vanilla, Falchi, Crafter, Vanilla Abbandonata, vi dono tutto il mio lutto. E guardiamo, ragazzi, io lascio tutto questo lutto. Io lascio tutto, non me lo voglio più. Mamma mia, ragazzi, prendiamo tutto. Vendiamo nuovo tutto, perché, la zappa è incantata. Ragazzi, questo è un miracolo. Un nuovo video di una nuova serie, trovate già tutte queste cose. Che fortuna. Allora, la classifica è bella e utile. Allora, poi lì cosa c'è? Allora, ragazzi, io non so che cosa sto questionando. Non so cos'è, non so cos'è, raga. Vediamo se c'è qualcosa nelle test. Allora, fai vanno niente. Proviamo a vedere la giusta. Siamo qua tutti i test. Allora, ragazzi, vediamo a vedere cosa. Allora, ragazzi, andiamo qui. Prima qui, vediamo qui. Ok, perfetto. Allora, allora, allora. Allora, ragazzi, io mi chiedo, perché, io mi chiedo, perché mi hanno dato questa vanilla a farci tratto? Perché, ragazzi, io ci tengo. Io ci tengo, adesso, questa tele. L'ho detto per ogni video, ogni giorno. Perché, questa serie è impegnativa. Ragazzi, ci hanno dato una vanilla così. che non dobbiamo fare niente. Perché, adesso, mi devo decidere la casa. Adesso, adesso la decido. Allora, la mia casa. Allora, ragazzi, vediamo la prossima cosa che si trova o è ok, ok ragazzi, quella con la mia moglie, guardate qui e qua, quindi la faccio in via a vedere, non la ripeto, non la ripeto, quindi non la ripeto, 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 allora andate qui, allora, chiudiamo la porta, che la via va a te, allora, qui sarà più la mia stanza, qui mi metto, voglio venire a fare il punto di regione, non la ripeto, non la ripeto, quindi ragazzi, io sono a posto, possiamo fare la mia stanza, ragazzi, scusate e poi andiamo a prendere la mia stanza, allora, come ci siamo detto, qui è la mia casa, allora, qua andiamo, facciamo con due, perché non è che sappiamo le cose che si proposte, noi è inizionata, e andiamo qui, allora, ragazzi, lo dobbiamo fare, allora, ragazzi, lo non è che quello si alza di notte, perché non prende fuoco, allora, questa cosa è da un'altra cosa che non lo conosce, vediamo qui, questo è tipo una specie di libreria, ragazzi, quando vuoi, qui è il balcone, ragazzi, io adesso direi di andare a slavare un po' di allora, quando vuoi, qui è il palco, c'è il palco, c'è l'olio, diciamo, oggi andiamo adottando, comunque non sto parlando, allora io adesso inizio il palco, vediamo qui, non lo vediamo, qui stiamo dalla vendetta, qui guardiamo qui il palco e Allora ragazzi, lì è il limite, quindi non so più andare, e quindi io non si vedo mai. Allora, lì io non si voglio andare perché qui sono piatti. Allora, guarda, guarda, per questo video è tutto. Ciao ragazzi, io adesso vi facerò piantino più dolico, questo ragazzo è il primo. E vi saluto!